Non ci credo nemmeno io, siamo ufficialmente in live su Twitch. Prima live dopo il lungo stop di un mese, venite immediatamente, il link lo trovate qui sotto in descrizione e tra l'altro vi mostrerò un'esplorazione che purtroppo qui su YouTube sarò costretto a cancellare. Ci vediamo in live, forza!